Benvenuti in questo splendido tempio del powerlifting che è la mia casa ed è la casa di molti atleti. Ci siamo visti la prima volta dopo aver vinto gli italiani, ci risiamo visti la seconda volta dopo aver vinto gli europei con una promessa, ci rivedremo dopo il mondiale ed ecco così che ci siamo visti, ci vediamo dopo il mondiale. Allora ci tengo a precisare una cosa, la mia palestra non è solo di powerlifting innanzitutto e di preparazioni atletiche quindi le persone che si vogliono avvicinare o si avvicinano non devono pensare che diventano enormi, che diventeranno fortissime ma devono pensare che entrano con un obiettivo e questo obiettivo io gli aiuto a realizzarlo. qualsiasi esso sia dal mettersi in forma, al riattivarsi un po' posturalmente, all'aumentare la forza o perdere un po' di peso questo io lo posso fare, quindi si distoglie proprio dal powerlifting, è una preparazione atletica. Detto questo, bene, siamo qua appunto dopo il mondiale perché? Perché è andato veramente, veramente, veramente tanto bene. Come posso dire? Siamo partiti in tre dagli italiani e siamo arrivati in sei al mondiale. Cosa vuol dire? Che in questo mondiale sono riuscito a portare sei persone. Vabbè, una di queste ero io, che ho vinto sia italiani e europei e a questo giro è andata anche molto bene. Ho vinto sia il mondiale che l'assoluto di categoria del mondo, quindi è ancora un piccolo traguardino in più di aver vinto il mondiale. Però sono qua non per parlare solo di me perché io penso di aver vinto non come atleta ma come allenatore perché in fondo gli anni passano e ho dato tanto allo sport, ero un pugile professionista che mi ha seguito, poi ho gareggiato nel bodybuilding e sono arrivato a vincere tutto nel powerlifting. Però la cosa importante è che chi mi segue ha ottenuto dei risultati e vince perché in fondo una buona scuola, una buona palestra non è data dall'allenatore che vince ma dai suoi ragazzi. Perché se io arrivassi qua e mi monterei solo io come personaggio vinto, 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 e grazie ma io vengo lì, tu hai vinto ma chi alleni, cosa ha fatto nella loro carriera e che risultati ha ottenuto. Quindi mi preme tanto parlare di loro. Come ho detto siamo andati in sei, cinque dei miei ragazzi hanno partecipato a un mondiale e tre di loro hanno vinto. Quindi è una cosa veramente veramente importante. Il mondiale è stato fatto, si è svolto in Sardegna a Valle Doria, 17, 18 e 19 settembre, suddiviso in tre alzate. Il primo giorno era lo squat, il secondo giorno la panca e il terzo giorno lo stacco. Nella prima giornata appunto ho gareggiato io e l'altro ragazzo intervistato in questo video e abbiamo vinto tutte e due. Purtroppo il ragazzo preso un pochino dall'ansia, comunque la sua prima gara internazionale non è andato benissimo ma penso che se la sia cavata egregiamente portando a casa una vittoria anche se io comunque preferisco portare a casa il risultato personale e quindi l'ambito 200 che doveva alzare. Però è andata tutto sommato molto bene. Il giorno dopo la nostra ragazza Tressirenda ha gareggiato nella panca e ha vinto il mondiale nella panca. Ragioniamo che ha gareggiato sotto un peso di 50 kg e mezzo, la sua categoria era 50 e mezzo quindi lei è andata in gara a 49,6. Immaginatevi una ragazza di 49,6 kg che riesce a sollevare 70 kg con le braccia. La classica panca piana, quindi da coricata a spingere un bilanciere via. Vince il mondiale e vince e diventa pure campionessa assoluta di quel giorno. Quindi un grande, grande, grande risultato. Ma giorno dopo, giorno speciale veramente per il mio team, perché diciamo tre vittorie, tre titoli mondiali, cosa vogliamo di più? Giorno dopo abbiamo in gara quattro atleti, quindi vediamo un po' come va. Devo dire che abbiamo portato a casa nel giorno dopo due ori un argento e un bronzo. Quindi risultatone due ori, ma la cosa veramente, veramente importante è che la mia ragazza che gareggia nella meno 53, Tamara Mangarini, ha vinto sì il mondiale, ha vinto l'assoluto contro tutte e ha stabilito un nuovo record del mondo. Lei a meno di 53 kg ha sollevato da terra 150 kg, stabilendo il record del mondo. Ma un'altra cosa bellissima è che la ragazza prima che gareggiava il sabato, che ha vinto la panca a 3 Sirenda, ha vinto sia nella sua categoria meno 50 e mezzo il mondiale, ma ha stabilito anche il record europeo. Quindi io direi contentissimo. La prima esperienza anche internazionale per l'altra ragazza che ha parlato in questo video, Samantha, direi che sono molto, molto, molto contento perché alla terza gara si ritrova un mondiale. Prima gara internazionale, quindi combattuta veramente con i denti e con le unghie contro ragazze straniere e per pochissimo, per pochissimo non si aggiudicava il primo posto. La cosa interessante è da dire che lei ha giocato veramente, ha gareggiato veramente per vincere, perché gli bastava semplicemente fare lo stesso peso delle altre e sarebbe arrivata terza comunque perché le altre pesavano un po' meno di lei nella categoria. Invece io lo voglio detto, semplicemente siamo qua per vincere o per accontentarci? Quindi essendo lì per vincere gli ho fatto provare un carico leggermente più alto che non aveva mai provato in allenamento e per pochissimo non riusciva a chiuderlo. Per me è stata la gara, la sua, la più bella che ho visto in questo mondiale e soprattutto la più bella che hanno fatto i miei atleti, quindi la sua è stata la più bella perché è stata sofferta fino alla fine. Tornati a casa, che dire, tutti hanno aumentato i loro massimali, quindi purtroppo dico potevano farlo il 17, il 18, il 19 settembre, l'hanno fatto dopo ma perché? Perché sono cresciuti mentalmente. Le esperienze internazionali, le gare e quant'altro ti aiutano a maturare, sia come persona, perché comunque sia poi nell'ambito di palestra aiuti e vedi i novizi in maniera differente, sia come atleta poi in campo internazionale. E che dire, adesso non ci siamo fermati assolutamente, continuiamo a gareggiare, personalmente continuo a preparare le persone, continuo a preparare le persone di tutta l'età e in diversi sport, perché io nasco come preparatore atletico, quindi preparazione generale, quindi non parliamo che alleno e preparo calciatori, sì, ma non che non gli insegno a giocare a calcio, gli faccio una preparazione fisica. Quindi continuo a preparare le persone e continuo ad allenare il mio team per raggiungere sempre risultati migliori e maggiori. Ciao a tutti e alla prossima! Ciao, sono Marco, mi alleno qui nella palestra qua a Mirabello con il Team Francia da ormai tre anni e questa non è la prima gara che fa, ho fatto anche gli italiani, poi gli europei non sono potuto andare mentre quest'anno in Sardegna è la prima volta che partecipo a un mondiale. È stata dura la preparazione, gli allenamenti, comunque la preparazione è iniziata a maggio, ho faticato tanto, soprattutto negli allenamenti e anche se comunque in gara non sono riuscito a portare quello che volevo perché volevo portare il 200 e alla fine non ho portato neanche bene il 187,5 però ho anche avuto problemi con l'attrezzatura perché ho fatto la gara, ho gareggiato nella meno 67,5 equipaggiato, scuoto equipaggiato e quindi ho avuto problemi con l'attrezzatura che era stretta però comunque ho vinto, sono arrivato comunque primo quindi sono super soddisfatto. Ciao a tutti, sono Samantha, pratico powerlifting e faccio parte del Team Francia e anch'io ho partecipato ai mondiali quest'anno in Sardegna, arrivando terza. È stata una preparazione abbastanza dura sia come allenamento che come dieta per rientrare nel peso e anche a livello mentale perché pensavo di non essere competitiva con le altre ragazze, invece poi è andata abbastanza bene ma la sono giocata fino alla fine e non chiudendo la terza alzata e quindi arrivando però comunque su un podio. Grazie.